Il fattore energetico è tra le spese più rilevanti che pesano nel bilancio delle imprese artigiane. Dallo scorso 1 gennaio infatti si è concluso il periodo in cui le imprese con un contratto a partire da 15 kilowatt di potenza potevano beneficiare delle tariffe agevolate sul prezzo della materia prima presente nel mercato tutelato dell'energia. Il ruolo di Confartigianato Vicenza in tal senso è da sempre quello di supportare i propri imprenditori artigiani nel riuscire a valutare con obiettività l'effettiva convenienza del contratto attuale per non rischiare di incorrere in tariffazioni eccessive a danno delle imprese. Loris Rui, responsabile dell'ufficio energia di Confartigianato, ci spiega l'importanza del servizio offerto dall'associazione per valutare le proprie bollette ed ottenere una stima del reale risparmio economico tra i vari fornitori. Con il 31 dicembre del 2020 le piccole aziende e le micro imprese con più di 15 kilowatt di potenza contrattualmente disponibile non potranno più avvalersi del mercato tutelato. Praticamente quel mercato per le forniture di energia elettrica viene cessato. Che cos'è il mercato tutelato o meglio che cos'era? Era il mercato in cui le tariffe venivano stabilite dall'autorità per l'energia ogni tre mesi. Nel primo semestre di quest'anno invece sono entrate tutte automaticamente, seppure con lo stesso fornitore di prima, nel mercato libero, in un mercato che si chiama servizio a tutele graduali. In questi sei mesi, ovvero fino a giugno, verranno poi definite e realizzate le aste. Questo significa che tutte quelle aziende che erano appunto nel mercato di maggior tutela verranno messi alle aste. Con queste aste vengono anche definite le tariffe che verranno applicate per i prossimi tre anni a queste aziende. Rimane ferma comunque la facoltà di ognuna di queste aziende di poter scegliere il fornitore in tempi brevi, ovvero di cambiarlo se non vuole stare con quel fornitore. Per quanto riguarda la posizione di confartigianato Vicenza, noi suggeriamo che le aziende non attendano le aste, essendo già nel libero mercato, ma scelgano il fornitore a cui abitualmente confartigianato si rivolge, ovvero tramite il consorzio CAEM. Quindi il suggerimento è quello di rivolgersi presso tutti gli uffici di confartigianato Vicenza, portare le bollette di energia elettrica e di gas, per fare un raffronto con le tariffe attualmente applicate e per vedere se vi è una convenienza passare appunto con le forniture proposte dal CAEM, che è il consorzio di confartigianato Vicenza che si occupa delle forniture elettriche.